Arriva il Natale e San Benedetto non si lascia trovare in preparata. Quest'anno anzi l'amministrazione ha deciso di creare una vera e propria struttura al coperto per ospitare, con tanto di intrattenimento, adulti e bambini. Dal 20 dicembre al 9 gennaio infatti, in piazza Mar del Plata, zona Faro, verrà realizzato il Pala Natale, un tendone che ospiterà tanti eventi dedicati nel pomeriggio ai bambini e la sera a ragazzi e adulti. Fra i tanti spettacoli segnaliamo il 25 il concerto gospel delle Only Woman, realizzato dalla Piceno Eventi e il 27 il festival di musica elettronica Elettronto. Non solo Pala Natale però, perché in piazza Matteotti arriva anche la mitica casetta di Babbo Natale. L'altra cosa che avverrà invece in questo Natale è un'animazione di un po' di tutte le vie con eventi, animazioni, Babbi Natale e quant'altro. Su Piazza Matteotti sarà montata la casetta di Babbo Natale, quindi aspettiamo tutti i bambini con le loro letterine, potranno spedirle all'interno di questa casetta, ci sarà un Babbo Natale che li aspetta e poi subito passato il Natale leggeremo tutte queste letterine e avremo modo così di rispondere a loro e di portare loro qualche cosa di buono. Insomma la città si prepara al meglio per il Natale, non rimane allora che aspettare l'arrivo della magica notte del 24 per poter dare il via ufficiale ai festeggiamenti.